ragazzi buongiorno in data odierna 12 1 2024 line 6 ha rilasciato il nuovo firmware 3.71 per i sistemi line 6 ilix lo vedete lì dietro a schermo è un firmware di correzione di alcuni bug che c'erano sul 3.70 quindi non viene aggiunto niente non viene aggiornato niente a livello di effetti di amplificatori però vi consiglio di farlo proprio perché corregge diversi bug che hanno rilevato che gli sono stati segnalati sul 3.70 detto ciò proseguite con tutta tranquillità quindi utilizzate l'editor maniera ormai semplice funzionale vi indica l'update seguite tutte le istruzioni fate il backup dopodiché fatto l'aggiornamento ricordatevi di effettuare il hard reset della macchina con i tassi 9 10 per quanto riguarda i sistemi floor per altri sistemi leggete le istruzioni che trovate a schermo nella pagina del film non vi fate problemi funziona tutto detto ciò vi ricordo anche poi di ovviamente richiamare il backup che avete fatto questo è un altro segno positivo da parte di lens x che ci tiene i loro prodotti e quindi continua a tenere viva e aggiornata la macchina che ormai ai suoi anni buona giornata a tutti e noi ci vediamo presto in un nuovo video